Conf Cooperative Piemonte ha deciso di aderire al gruppo delle organizzazioni Green in questo progetto Alcotra perché rappresentiamo le cooperative di tutti i settori a livello piemontese, operanti quindi in vari ambiti che in questo progetto possono portare degli esempi alle scuole e quindi ai futuri imprenditori o comunque lavoratori e cercatori di competenze opportunità legate sia a dei processi produttivi che portino al risparmio di risorse e di materie prime quindi ci sono cooperative che hanno utilizzato dei processi per risparmiare le materie prime nelle loro lavorazioni a cooperative che possono produrre e producono energie provenienti da fonti rinnovabili a cooperative che manutengono il territorio e quindi proteggono dal rischio idrogeologico i nostri territori soprattutto montani a cooperative agricole che hanno riutilizzato e utilizzano scarti di lavorazione sottoprodotti per nuovi prodotti o per energia quindi diciamo che più che mai possiamo portare degli esempi a favore degli studenti e delle scuole